Ciao e benvenuti in questa incredibile televendita! Per la prima volta in assoluto una fantastica promo! Un meraviglioso set di coltelli! Qui con me c'è Katrin! Ciao Katrin! Ma che p***o! Perfetto, torniamo a noi! Osserva Katrin, questo affilatissimo coltello è in grado di tagliare una lattina senza alcun problema! Ma che s*****a John! Perchè diavolo dovrei tagliare una lattina? Ma proseguiamo! Presentando un altro fantastico accessorio! Guarda un bellissimo pela patate con lame in amianto! Katrin puoi pelare pure il legno! Ma che s*****o dici John! Le patate devo pelare! Le patate! Ma affrettati! Chiama ora e potrai avere l'esclusivo set di coltelli fatti con materiali illegali al prezzo che vedi in sovraimpressione! Ma non è finita qui! Il regalo insieme al meraviglioso set non una, non due, ma ben tre lattine vuote! Divertiti anche tu! Potrai cimentarti nel taglio della lattina come in una vera televendita! Tutto questo è fantastico! Ma che rottura di s*****e! Katrin! Non abbiamo finito! Katrin! Katrin! Vabbè, mi taglio del salame! Ma porca p***a! Questi coltelli fanno letteralmente schifo!